ecco qua la valentina oggi sta giocando con lo yogurt con il gesso non si sa che c'è papà che hai fatto che vuoi che vuoi che vuoi a papà niti che vuoi a papino eh hai fatto l'impasto oggi il cemento il gesso si devi cosa devi ingessare e qua cosa c'è la crema di mango la crema di mango puke mango puke da malai eh ah now you wash your hand inside yogurt good hai lavato le mani nello yogurt perché dici mi sono sforcata ma lavo le mani nello yogurt e si lavo le mani nello yogurt ma quanto è brava sta cicciolina guarda quanto è brava eccola qua guarda guarda amore brava lung moon lung moon lung moon ok lung moon lung moon ok poleo poleo papà po po basta eh è un casino della madonna basta né ok va bene così poleo eh e la faccia c'hai la barbetta la barbetta bianca c'hai già eh ma non c'è sta angiolina cosa hai fatto lì un macello hai fatto ok po po po